L'operatore Mangobite vuole uscire dal programma. Europe Network e l'operatore Mangobite ritorno una prossima settimana alla stessa ora. Sono le diciotto e due minuti. Mercoledì venticinque dicembre ritorna Asia. Alex Turco, Sandro e Daniele Franzolini presentano il terzo memorabile compleanno Asia. In house floor Massimino, Ricchi Birichino, Adria Morrison, Danny Love, Fabrizio Bucciardi. In pressure floor Shock Selector Fabrizio, Argruvo Pippo, ospite d'onore Robert Miles. Asia presso Dreamhouse Family Club a Zoppola Pordenone. Autostrada a quattro uscita superstrada per Pordenone, località Cimpello. Infoline 0338 3046 10. Soul Trade, il marchio della musica black presenta Soul Trade volume 2. L'esclusiva combination funky soul and desi jazz. Soul Trade volume 2. Con Soul For Real, Elizabeth Troy, Spiral, Seanas Coffrey, Mabira Assuna, Joe Desi, Jazz Bossi, Afro Pins. Soul Trade volume 2. L'esclusiva combination con il meglio della musica funky soul and desi jazz. Soul Trade volume 2. In tutti i negozi di dischi, sua etichetta Soul Trade. Progressive and House Uniti. Giovedì 26 dicembre special event al Matis. In collaborazione con i staff Plasmafobia, Alter Ego, Bunker, Geodroom, Sondai, Liria, Torquemada. In console Ricci, DJ, Noferini, Morato, Killer Faber, Dionigi, Cominotto, DJ Mark, Billy, Michael M. Special voice Leo Degas. In Gitch House Privé in collaborazione con New York Bar, Echo Strain, Mark, DJ Andrello, Flavio Vecchi, Ivan Iacomucci. Special voice Francesca. A direttore Ricci Forno. Giovedì 26 dicembre, Progressive and House Uniti. Matis, Bologna. So fly, love song. Hai mai sentito parlare di acid jazz, trip-hop, jungle, R&B, future funk? Allora dovresti conoscere i CDs di Irma Molto Jazz. Se ti piace scoprire le nuove tendenze della musica internazionale, se vuoi sapere cosa sta cambiando nel modo di fare musica, ascoltati i CDs di Irma Molto Jazz. E se vai a New York, a Londra, a Los Angeles, a Parigi, a Tokyo, a Sydney, non ti meravigliare, se anche là troverai i CDs di Irma Molto Jazz. Irma Molto Jazz, la buona musica senza confini. In Italia distribuito da Sony Music. Capodanno imperiale, 24 ore di musica. Discoteca interiale e Club Neo presentano 5 situazioni musicali con 30 DJs. Il console Zappalà, Michi, Ciro, vocalista Roberto Francesconi, live performance degli Open Space, from Ibiza, Chiscia, from Italy, Gabri, Fasano, from London, Lulu e Mr. Charlie, il Miss Privé, DJ, Danny Ross. Martedì 31 dicembre, 24 ore di musica. Discoteca interiale e Club Neo a Tirregna, Pisa. Info 050 37 67 3. Forse non sai che è possibile acquistare tutto il materiale discografico che cerchi per porta. Magazzini Nannucci, oltre ad essere il punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica a Bologna, è anche leader su tutto il territorio nazionale. Grazie al suo aggiornatissimo catalogo di compact disc, cassette ed attessori, che ti permette di scegliere direttamente da casa e a prezzi che solo Nannucci può offerti. Richiedi gratuitamente il catalogo scrivendo a Magazzini Nannucci, casella postale 386, Bologna. Sabato 21 dicembre, Discoteca La Baia, In Code One Room DJs, Andrea Degli Angeli, Piero Zeta e Morris. Special guest, Vincenzo Vincelesso. Sabato 21 dicembre, La Baia. In Code Two Room DJs, BNV e Roberto Tempi. In Code Free Room, Eletronic Funky con i consoli mitico Mozart. The Voices, Francois e David Mendoza. Sabato 21 dicembre, Discoteca La Baia, a Gabice Mare. Baia Line 0541 95 03 12. La musica, Area City, Loferini, Bellini a Isaac, Area City. Io il Buddha in Italia adesso, Area City, Area City compilation live. Una produzione Andrea Piccoli, CD e cassetta Dancework. Ah, Ale, ciao, quanto tempo. Prendi qualcosa? Capo, io ho un caffè, grazie. Lungo, ma non troppo. Ah, ben caldo, eh? E decaffeinato, con dolcificante. Due bustine. Allora, in una tozza grande, con del latte. Tiepido, eh? Senza schiuma. E scremato, a parte. Tu, Ale, cosa prendi? Una Salsusì, grazie. Ah, ottimo. Capo? Due Salsusì. Hai mai provato una birra speciale dal gusto così convincente? Salsusì, senti che birra. Radio Italia Network presenta... L'Anex Snow. L'Anex Snow. L'Anex Snow. La federazione italiana Snowboard. In collaborazione con Monterey presenta... Il circuito di eventi dedicato allo snow. L'Anex Snow. L'Anex Snow. Non parte della prima tappa il 21 dicembre a Livigno. Nel Megaglou alla pista Mottolino, ci sarà da aspettarti la musica e l'animazione di Italia Network. Con un fantastico snow party. You ready to kick them ass? Snow, 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 snow. Planet Snow. Il circuito degli snowboards. Planet Snow. Un evento in collaborazione con Sprite e Killer Luke. The New Year's Day of Future. Martedì 31 dicembre 1996. Presso il Palasporte di Modena, Ivan Lepaire presenta... Il Capodanno del Futuro. Suoneranno DJ Erby, Max B. Bezzali, special guest DJ Mortis, Gianni Agassi... Ray Gianni Parrini. Vocalist in love, The Voice of Pleasure. Animazione by Evil Girls and Cybermen. Martedì 31 dicembre dalle 22.30 alle 8 del mattino... The New Year's Day of Future. Presso il Palasporte di Modena. Il Capodanno del Futuro. Discoteca Fitzcarraldo di Terranuova Bracciolini Arezzo. Ti invita all'ascolto di Suburbia. Hai varcato la stativica soffia. Suburbia. L'esceso del magico mondo tutterraneo di Suburbia. La classifica dove si scoprono nuovi fenomeni musicali. Suburbia. Stai già percorrendo le vie di Suburbia. Benvenuto. E attenzione ai suoni incredibili che sentirai. Fino alle 21.00. Vivrai la Suburbia emozione. Suburbia. 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 Grazie a tutti. 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 Now, Grazie a tutti. 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 It's a... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. l'esclusivo party dell'anno auguri di buon Natale da Zona Club e Point Promotion Agency Roland Brandt presenta Duplay Live Compilation Volume 2 in anteprima i grandi successi della Progressive del futuro Duplay Live Compilation Volume 2 il grande ritorno della Progressive dal vivo Duplay Live Compilation Volume 2 sono su cd e cassette da Zaster Records Radio Italia Network Internet Italia Network on Internet www.italianetwork.it Ascolta il nostro mondo Subur, subur, subur No. 4 No. 4 No. 5 No. 5 No. 5 No. 6 No. 6 No. 5 No. 6 Grazie a tutti. 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 ... 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 Italia Network Spot! Italia Network Spot! Progressive in Daos Unity, giovedì venti 6 dicembre Special Event, al Matis. In collaborazione con i staff Plasma Fumia, Alter Ego, Bunker, Geodrom, Sondai, Livia, Torquemada In console Ricci, DJ, Noferini, Moratto, Killer Faber, Dionigi, Cominotto, DJ Mark, Billy, Michael M Special Voice, Leo Degas In Gitch House, Privé, in collaborazione con New York Bar, Echo Street, Mark, DJ Andreno, Flavio Vecchi, Ivan Iacomucci Special Voice, Francesca, Art Director, Ricky Forno Giovedì 26 dicembre, Progressive and House Unity, Matis, Bologna E sposa la Bohemian Mania E' uscita Bohemian Compilation, quella gialla con Bohemian Rhapsody E non solo, Robert Miles, Boy George, Datura, Skipper, Mario Più e molti altri Bohemian Compilation, da ascoltare, da ballare, da regalare Anche la mamma Sabato 21 dicembre, Discoteca La Baia In Code One Room DJs, Andrea Degli Angeli, Piero Zeta, Morris Special Guest, Vincenzo Viceversa Sabato 21 dicembre, La Baia In Code Two Room DJs, Pierre Delvega e Roberto Telli In Code Free Room, Electronic Funky con i console mitico Mozart The Voices, Francois e David Mendoza Sabato 21 dicembre, Discoteca La Baia, Agabice Mare By Align 0541 95 03 12 So fly all the sun Hai mai sentito parlare di acid jazz, trip hop, jungle, R&B, future funk? Allora dovresti conoscere i CDs di Irma Molto Jazz Se ti piace scoprire le nuove tendenze della musica internazionale Se vuoi sapere cosa sta cambiando nel modo di fare musica Ascoltati i CDs di Irma Molto Jazz E se vai a New York, a Londra, a Los Angeles, a Parigi, a Tokyo, a Sydney Non ti meravigliare, se anche là troverai i CDs di Irma Molto Jazz Irma Molto Jazz, la buona musica senza confini In Italia, distribuito da Sony Music Teatrice, sabato 21 dicembre Paolo Frosali presenta Buon compleanno, Mocca DJ Verrà festeggiato il compleanno con un ospite incredibile Sabato 21 dicembre a Teatrice, direttamente dal Belgio Special guest, Stefan Vallenberger Suoneranno con lui i DJs Gianni Agrei e Fidel Fatti Il Network Rivè, Roberto Carbonero e Andrea Frizza Sabato 21 dicembre 1996 Teatrice, a Lugo, Ravenna Amore Amore Amore, questa è per te Amore, una pelliccia Non dovevi Amore mio, sì, dovevo No, no che non dovete Regalare una pelliccia non è un gesto d'amore Quale amore può giustificare cento milioni di animali uccisi in tre anni Iscrivetevi alla LAV, lega anti vivisezione Questo sì, che è un gesto d'amore Parola di Licia Colò E di Marco Columbo LAV, lega anti vivisezione Telefono 06 39 73 32 99 Anche Italia Network si unisce a questo messaggio E partecipa con la LAV alla lotta contro la vivisezione 12 ore non stop Capodanno Eco Un cammino verso la nuova era Sala progressiva DJs Davide V Filmi Mocra Bisma Dionigi Fasano Orbost Quetzal Underground Privé DJs Rame Cuomo Danilo Masculo Stevie V Gianluca Cinta Flavio Rallo Stefano Noto Alex Benedetti Iva Iacobucci Luca Columbo Performance Vocality Ottaviano Sini Capodanno Eco Sabato 21 Dicembre Guest DJ Marco Diunici Preventi del Poline 05 41 73 11 05 Uscita di Unisù Discoteca Eco Radio Italia Network presenta Planet Snow Planet Snow Planet Snow La Federazione Italiana Snowboard In collaborazione con Monterrey presenta Il circuito di eventi del cattolo Snow Planet Snow Planet Snow Non padre La prima tappa il 21 Dicembre a Livigno Nel Mega Glue alla pista Mottolino Ci sarà da aspettarti la musica e l'animazione di Italia Network Con un fantastico Snow Party You ready to kick them ass? Snow 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 Planet Snow Il circuito degli Snow Boats Planet Snow Un evento in collaborazione con Sprite e Killer Loop UMD Underground Music Department Ha il piacere di regalarvi l'Underground del passato E l'Underground del futuro Underground People Holidays Con tutti i successi del 96 Mixati da Costantino Mixmaster Padovano E tutte le novità del momento Mixate da Marco Polo Cecere Underground People Holidays In mezzo dell'Underground In due CD al prezzo di uno O due cassette al prezzo di una Big Hit aiuta la musica Philip Morris Sound Philip Morris Sound Disco regalo La novità discografica in regalo per te Tutti i giorni dalle 19 alle 21 in Philip Morris Sound Philip Morris Cultura dei tempi moderni Stars Cake 1997 Juiz Il T-Dance Al Matis Bologna Il Tragistice Ribut Ribut Pro bit Numero 1 Torx Pocah Paqu認 Per Av mamm Fantastic Di cha Co officials Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.